Geraldo era venuto in America dall'Irlanda all'età di vent'anni. Era venuto in fretta e furia, come tanti altri irlandesi, migliori o peggiori di lui erano venuti prima e dopo, coi soli abiti che aveva indosso, due scellini in tasca oltre al denaro del viaggio e sulla sua testa una taglia che gli sembrava molto più vistosa di quanto il suo misfatto non comportasse. Infatti non esisteva un orangista, che era il membro di una società istituita in Irlanda per sostenere il protestantesimo, cioè la causa di Guglielmo d'Orange. Dicevamo non esisteva un orangista che valesse cento sterline per il governo inglese o per il demonio in persona. Ma dal momento che il governo inglese aveva preso così a cuore la morte dell'esattore di un possidente irlandese, Geraldo fu costretto a partire per mettere il mare fra sé quel governo. Per essere sinceri, dobbiamo riconoscere che egli aveva chiamato l'esattore bastardo di un orangista, ma questo, secondo il modo di pensare di Geraldo, non dava affatto a quell'uomo il diritto di insultarlo, mettendosi a zufolare le prime battute della canzone The Boy in Water, l'acqua del boine. La battaglia del boine era stata combattuta più di cento anni addietro, ma per gli Ohara e per i vicini era come se fosse stato ieri che i loro sogni e le loro speranze, assieme alle loro terre e alle loro ricchezze, erano scomparsi nella stessa nuve di polvere che aveva avvolto un principe Stuart spaventato e fuggiasco, lasciando Guglielmo di Orange e i suoi odiosi soldati con le loro coccarde arancione ad uccidere gli irlandesi aderenti degli Stuart. Per questa e per altre ragioni la famiglia di Geraldo non era disposta a considerare il fatale esito della sua lite come una cosa molto seria se non fosse stato per il fatto che portava con sé delle conseguenze molto gravi. Per molti anni gli Ohara erano stati in cattivi rapporti col corpo di polizia inglese a causa di sospetta attività contro il governo e Geraldo non era il primo degli Ohara che si metteva le gambe in spalle e lasciava l'Irlanda dalla sera alla mattina. Egli ricordava vagamente i suoi due fratelli maggiori Giacomo e Andrea, due giovani taciturni che andavano e venivano in certe strane ore della notte per misteriose ragioni o scomparivano per parecchie settimane con grande ansietà della loro mamma. Erano andati in America diversi anni prima dopo la scoperta di un piccolo arsenale di fucili sepolti sotto il porcile di Ohara ed erano diventati dei ricchi negozianti a Savanna. Benché solo il buon Dio sappia dov'è questo posto, come la madre sempre diceva quando parlava dei suoi due figli maggiori. Il giovane Geraldo fu mandato presso di loro. Aveva lasciato la casa con un bacio frettoloso di sua madre sulla guancia, la sua fervente benedizione cattolica nelle orecchie e l'ammunizione di suo padre. Ricorda chi sei e sappi essere sempre un uomo. I suoi cinque fratelli, tutti pezzi di giovani, lo salutarono con sorrisi ammirati ma leggermente protettori perché Geraldo era il più giovane e il più piccolo di una famiglia robusta. I suoi cinque fratelli e il padre erano alti più di un metro e ottantacinque e robusti in proporzione, ma il piccolo Geraldo arrivato a vent'anni sapeva che il padre eterno nella sua saggezza non gli avrebbe regalato più del suo metro e cinquantacinque di statura. Però egli non aveva mai perso tempo a rimpiangere la statura che gli mancava, né aveva mai trovato che questo fosse un ostacolo per ottenere qualsiasi cosa desiderasse. Anzi, era la sua salda, benché piccola corporatura, che lo aveva fatto ciò che era, poiché egli aveva appreso di buon'ora che la gente piccola deve essere solida per poter sopravvivere e fare i grandi e Geraldo era solido. I suoi fratelli, alti di statura, erano torvi e silenziosi. In essi la tradizione familiare delle glorie passate, perdute per sempre, si inaspriva in un odio contenuto e prorompeva in sarcasmi. Se Geraldo fosse stato robusto sarebbe diventato come gli altri Ohara e avrebbe agito occupamente e silenziosamente fra i ribelli contro il governo, ma egli era strellone e testone, come diceva scherzando sua madre, attaccabrighe, pronto a far pugni, con le sue spalle quadre dalle ossa così sporgenti che quasi si disegnavano sotto ai vestiti. Camminava zampettando in mezzo agli altri Ohara, come un pettoruto galletto Bantam in un pollaio di giganteschi galli domestici. Essi lo amavano, lo stuzzicavano affettuosamente per sentirlo strepitare e lo battevano con i loro grossi pugni, non più di quanto fosse necessario per far rigare dritto un fratellino. Se l'educazione che Geraldo aveva portato in America era insufficiente, egli lo ignorò sempre, né gliene sarebbe importato se gliel'avessero detto. Sua madre gli aveva insegnato a leggere e a scrivere con chiarezza. Sapeva far di conto, ma qui le sue cognizioni finivano. Il solo latino che gli conoscesse era quello delle risposte alla messa e, come storia, sapeva soltanto i moteplici torti fatti all'Irlanda. Non conosceva poesia eccetto quella di Moore, né musica eccetto le canzoni irlandesi che si erano tramandate attraverso gli anni. Mentre aveva il più gran rispetto per quelli che erano più istruiti di lui. La sua mancanza di istruzione però non gli dava fastidio. Che bisogno avrebbe avuto di queste cose in un paese nuovo dove i più ignoranti degli irlandesi avevano fatto fortuna? In quel paese che chiedeva agli uomini soltanto di essere forti e di non avere paura di lavorare. Neanche Giacomo e Andrea che lo accolsero a Savanna nel loro negozio furono disturbati dalla sua mancanza di cultura. La sua buona calligrafia, i suoi numeri esatti e la sua abilità nel contrattare conquistarono il loro rispetto. Mentre cognizioni di letteratura o raffinato gusto musicale, se Geraldo li avesse posseduti non avrebbero suscitato che la loro beffa e il loro disprezzo. L'America nei primi anni del secolo era stata favorevole agli irlandesi. Già come Andrea, che avevano cominciato col trasportare merci in carri coperti da Savanna alle città interne della Georgia, erano riusciti ad avere un negozio proprio e Geraldo prosperò con loro. Ah, gli piaceva il sud e ben presto ritenne di essere diventato un meridionale. Vi erano negli stati del sud e nei loro abitanti molte cose che egli non avrebbe mai compreso, ma con la cordialità insita nella sua natura egli adottò le loro idee e i loro costumi, così come li comprendeva. Poche recorse di cavalli, politica ardente, codice cavalleresco, diritti di stato e maledizione a tutti gli Yankees, schiavitù e cotone, disprezzo per i rifiuti bianchi ed esagerata cortesia verso le donne. Imparò perfino a masticare tabacco. Non vi era bisogno per lui di acquistare la facilità a bere whisky perché l'aveva di nascita. Ma Geraldo rimaneva Geraldo. Le abitudini di vita e le idee mutarono, ma egli non volle mutare i suoi modi anche se ne fosse stato capace. Ammirava l'eleganza affettata dei ricchi piantatori di riso e di cotone che si recavano savanna dai loro reami paludosi, a cavallo di puro sangue seguiti dalle carrozze delle loro signore ugualmente eleganti e dai carri dei loro schiavi. Geraldo non riuscì mai a diventare elegante. Quel modo di parlare pigro e strascicato era piacevole per le sue orecchie, ma la sua lingua si rifiutava di adottare altro linguaggio che non fosse il suo vivo dialetto. Gli piaceva la grazia indifferente con la quale si conducevano affari importanti, arrischiando un patrimonio, una piantagione o uno schiavo su una carta e scrivendo le loro perdite con incurante buon umore e senza darvi maggiore importanza di quando gettavano dei soldi e piccoli neri. Ma Geraldo aveva conosciuto la povertà e non poté mai imparare a perdere il denaro allegramente e con buona grazia. Erano simpatici quei georgiani della costa con la loro voce dolce, le loro subite ire e la loro deliziosa inconsistenza e a Geraldo piacevano molto, ma nel giovane irlandese, appena giunto da un paese dove il vento soffiava umido e fresco e dove nelle paludi nebbiose non si celava la febbre era una vitalità ardente e irrequieta che lo rendeva diverso da quegli indolenti individui prodotti dal clima semitropicale e dalle paludi malariche. Da essi imparò ciò che gli sembrò utile trascurando il resto. Trovò che il poker era la più utile delle abitudini meridionali, il poker e la resistenza al whisky e fu la sua naturale attitudine alle carte e ai liquori che procurò a Geraldo due delle tre proprietà a cui teneva di più, il suo domestico e la sua piantagione. La terza era sua moglie e questa l'attribuiva soltanto alla misteriosa bontà divina. Il servo chiamato Pork, un nero lucente, dignitoso e pratico di ogni specie di eleganza vestimentaria, era il risultato di una notte di poker con un piantatore dell'isola di Saint-Simon, il cui coraggio nel bluff uguagliava quello di Geraldo, ma che non aveva la sua stessa resistenza al room di New Orleans. Quantunque il proprietario di Pork offrisse poi di ricompensarlo per il doppio del suo valore, Geraldo rifiutò ostinatamente perché il possesso di quel primo schiavo, per sovrappiù il miglior dannato servitore della costa, tra virgolette, costituiva il primo passo verso l'adempimento del desiderio che era in fondo a suo cuore. Geraldo desiderava di essere un proprietario di schiavi e un possessore di terreni. Si era messo in mente di non passare tutte le sue giornate a contrattare, come Giacomo e Andrea, e tutte le sue sere ad allineare cifre e allume di una candela. Sentiva acutamente ciò che i suoi fratelli non sentivano, le stimmate con cui la società bollava, quelli che erano nel commercio. Geraldo voleva essere un piantatore, con la profonda avidità di un irlandese che è stato fittavolo nelle terre che un tempo erano state proprietà della sua famiglia. Egli desiderava di vedere i propri campi stendersi verdi dinanzi ai suoi occhi. Con una spietata sincerità di propositi, egli desiderava la propria casa, la propria piantagione, i propri cavalli, i propri schiavi. E qui, in questo nuovo paese, libero dai due pericoli della terra che aveva lasciato, le tasse che divorano i raccolti e la continua minaccia di improvvisa confisca. Egli intendeva di averli. Ma col passare del tempo si accorse che avere quell'ambizione e giungere a realizzarla erano due cose ben diverse. La costa georgiana era tenuta troppo strettamente da un'aristocrazia trincerata in se stessa perché egli potesse mai sperare di conquistare il posto che desiderava avere. Allora la mano del destino e quella del poker si accordarono per dargli la piantagione che egli più tardi chiamò Tara e nello stesso tempo lo tolsero dalla costa per mandarlo a stabilirsi nell'altipiano della Georgia settentrionale. Fu in un salone di savanna, in una calda notte di primavera, che la conversazione di uno straniero seduto accanto a lui fece drizzare le orecchie a Geraldo. Costui, un nativo di savanna, era tornato al suo paese dopo 12 anni di assenza. Era stato uno dei vincitori della lotteria terriera emessa dallo Stato per dividere la vasta area della Georgia centrale ceduta dagli indiani l'anno prima che Geraldo venisse in America. Colui vi si era recato e vi aveva stabilito una piantagione ma ora che la sua casa si era incendiata non aveva più voglia di stare in quel maledetto luogo e sarebbe stato felice se avesse potuto cederlo. Geraldo, sempre col pensiero di avere una piantagione propria, fece in modo di farsi presentare. Il suo interessamento aumentò quando lo straniero gli disse che la parte settentrionale dello Stato si stava popolando di persone che venivano dalla Caroline e dalla Virginia. Geraldo aveva ormai passato a savanna tanto tempo che aveva acquistato il punto di vista degli abitanti della costa. Riteneva cioè che tutto il resto dello Stato fosse foresta folta con un indiano nascosto in ogni macchione. Trattando affari per i fratelli O'Hara, gli era avvenuto di visitare Augusta, centomiglia nord del fiume, e aveva viaggiato nell'interno visitando le vecchie città dell'Ovest. Sapeva che quella parte era tanto bene organizzata quanto la costa, ma dalla descrizione dello straniero la sua piantagione doveva trovarsi a più di 250 miglia nell'interno, a nord e a ovest di Savanna, a non grande distanza dal fiume Chattahoochee. Geraldo sapeva che a nord, al di là di quel fiume, il territorio era ancora in mano degli indiani rocchesi, quindi fu con stupore che udì lo straniero burlarsi dei timori di questioni con gli indiani e raccontare come nel nuovo paese si stessero sviluppando prosperose città e feconde piantagioni. Un'ora dopo, quando la conversazione cominciò a languire, Geraldo, con una scaltrezza smentita dai suoi grandi occhi azzurri, propose di fare una partita. Con l'avanzare della notte dopo numerosi bicchieri, a poco a poco tutti abbandonarono il gioco, lasciando soltanto Geraldo e lo straniero battersi. Lo straniero puntò tutti i gettoni che aveva davanti e vi aggiunse il documento di proprietà della sua piantagione. Geraldo a sua volta spinse tutti i suoi gettoni e vi posò sopra il proprio portafogli. Se il denaro che conteneva apparteneva ai fratelli Ohara, la coscienza di Geraldo non era tanto turbata da confessarlo prima della messa dell'indomani mattina. Sapeva ciò che voleva e quando Geraldo voleva una cosa vi arrivava per la via più diretta e poi aveva una tal fede nel suo destino e nei dadi che neanche per un momento si chiese come avrebbe restituito il denaro se avesse perduto il colpo. Non è un buon affare il vostro ed io sono contento di non dover più pagare tasse laggiù, sospirò il possessore di un full di assi dopo aver chiesto penne e calamaio. La casa grande si è incendiata un anno fa e nei campi stanno crescendo boscaglie e pinastri ma è roba vostra. Non mescolare mai cartene e whisky se non sei stato svezzato con acquavite di Irlanda, disse gravemente quella sera Geraldo a Porc mentre questi lo aiutava a coricarsi. E il servo, che aveva cominciato a masticare il dialetto irlandese, nella sua ammirazione per il padrone gli rispose in una strana combinazione di gergo dei neri e di idioma di country myth che avrebbe intrigato chiunque eccetto loro due. Il fangoso fiume Flint, che correva silenzioso tra pini e querce sulle quali si arrampicava la vita selvaggia, avvolgeva la nuova proprietà di Geraldo come un braccio incurvato, abbracciandola dai due lati. Per Geraldo, rito sul piccolo cocuzzolo su cui era stata un tempo la casa, quella grande barriera verde rappresentava la piacevole evidenza del suo possesso, come se fosse uno steccato costruito proprio da lui per segnare il limite della proprietà. Rito sulle fondamenta annerite della casa bruciata, egli guardava il lungo viale alberato che conduceva alla strada e bestemmiava allegramente con una gioia troppo profonda per permettergli una preghiera di gratitudine. Quelle due linee parallele di alberi cupi erano sue, suo quel prato abbandonato invaso dalle erbacce, cresciute enormemente sotto i giovani alberelli di magnolie. I campi incolti circondati di pinastri e di cespugli spinosi che ai quattro lati stendevano lontana la loro superficie di argilla rossiccia appartenevano a Geraldo Hara. Erano suoi perché egli aveva un ostinato cervello irlandese, il coraggio di arrischiare tutto su un colpo alle carte. Geraldo chiuse gli occhi e nel silenzio del terreno senza lavoratori sentì di essere giunto a casa. Qui sotto i suoi piedi sorgerà una casa di mattoni intonacati, al di là della strada saranno nuove barriere di legno e di ferro dietro alle quali pascoleranno mandri e ben pasciute e cavalli di razza e il terreno sanguigno che giunge dalla collina al fertile fondo valle risplenderà al sole di un candore piumoso, cotone, iugeri e iugeri di cotone. La fortuna degli Hara risorgerà a nuovo splendore. Col piccolo peculio guadagnato che i fratelli gli liquidarono con scarso entusiasmo e con una sommetta ottenuta mettendo un'ipoteca sul terreno, Geraldo comprò i primi agricoltori e si stabilì a Tara vivendo in solitudine nella casetta di quattro stanze del sorvegliante fino al giorno in cui avrebbe potuto costruire la casa bianca. Tissodò i campi in cui piantò il cotone e si fece prestare altro denaro da Giacomo e da Andrea per comprare un maggior numero di schiavi. Gli Hara erano una tribù irlandese unita nella prosperità come nell'avversità non per eccessiva affezione familiare ma perché avevano imparato durante gli anni dolorosi che una famiglia deve per poter sopravvivere presentare al mondo un fronte compatto. Prestarono il denaro a Geraldo il quale negli anni seguenti lo restitui con gli interessi. Gradatamente la piantagione si ingrandì perché Geraldo comprò ancora del terreno vicino e col tempo la casa bianca divenne una realtà invece di un sogno. Fu costruita dagli schiavi ed era un edificio largo e pesante che coronava il cocuzzolo dominante il verde pendio che giungeva sino al fiume. E piaceva molto a Geraldo perché anche quando era nuovo aveva l'apparenza di essere fabbricato da diversi anni. Le vecchie querce che avevano visto passare sotto il loro fogliame gli indiani circondavano la casa coi loro grossi tronchi e spandevano coi loro rami un'ombra sul tetto. Il prato ripulito dalle erbacce si ricoprì di trifoglio di erba medica e Geraldo sorvegliò che fosse ben tenuto. Dal viale dei cedri alle bianche capanne dei quartieri degli schiavi era in tutta tara un'area di solidità e di stabilità e quando Geraldo girava al galoppo la curva della strada e vedeva tra i rami verdi il tetto della sua casa il suo cuore si gonfiava di orgoglio come se lo vedesse per la prima volta. Era tutta opera sua del piccolo cocciuto e rimoroso Geraldo ed egli era in ottimi rapporti con tutti i suoi vicini. Beh meno quei Macintosh il cui terreno confinava col sua sinistra e con gli slatteri i cui miseri trei ugeri si stendevano alla destra lungo le paludi tra il fiume e la piantagione di John Wilkes. I Macintosh erano scozzesi, irlandesi e orangisti e se anche avessero posseduto tutte le sante qualità del calendario cattolico questa provenienza li avrebbe resi maledetti per sempre agli occhi di Geraldo. Veramente vivevano in Georgia da 70 anni e prima avevano trascorso il tempo di una generazione nella Carolina ma il primo della famiglia che aveva messo piede sulle rive americane era giunto da Ulster e questo bastava per Geraldo. Era una famiglia di gente rigida e taciturna che viveva per conto proprio e si sposava fra parenti. Geraldo non era il solo ad avere antipatia per loro perché la gente della contea era socievole e cordiale e non tollerava negli altri la mancanza di queste qualità. La fama di avere simpatia per gli abolizionisti non aumentava la popolarità dei Macintosh. Il vecchio angelo non aveva mai manomesso un solo schiavo e aveva commesso l'imperdonabile colpa di vendere alcuni dei suoi neri a mercanti di schiavi di passaggio che si recavano ai campi di zucchero della Louisiana ma le voci persistevano. È un abolizionista non vi è dubbio osservava Geraldo a John Wilkes ma in un orangista quando un principio contrario all'avarizia scozzese non viene più rispettato. Con gli slatteri la faccenda era diversa essendo essi dei bianchi miserabili non si aveva per loro neanche il forzato rispetto che l'indipendenza di Angelo Macintosh otteneva dalle famiglie dei vicini. Il vecchio slatteri che rimaneva disperatamente attaccato ai suoi pochi iugeri di terreno malgrado le ripetute offerte di Geraldo e di John Wilkes era inetto e piagnucoloso. Sua moglie era una donna coi capelli scarmigliati di aspetto pallido e malaticcio madre di una nidiata che aumentava regolarmente ogni anno. Tom Slattery non possedeva schiavi lui e i suoi due figli maggiori coltivavano spasmodicamente i loro pochi iugeri di cotone mentre la moglie e i figli minori si occupavano del cosiddetto podere ma il cotone non cresceva mai bene e l'oro a causa delle continue gravidanze della signora forniva raramente di che nutrire il modesto armento. La vista di Tom Slattery che gironzolava sotto i porticati dei vicini mendicando dei semi di cotone e un po' di lardo per poter tirare avanti era frequente. Slattery odiava i suoi vicini con quel po' di energia che possedeva intuendo il loro disprezzo sotto la loro cortesia e specialmente odiava i neri servi di questi ricchi. I schiavi neri della contea si consideravano superiori ai rifiuti bianchi tra virgolette e il loro non celato disprezzo lo feriva così come la loro più sicura posizione nella vita destava la sua invidia e gli conduceva un'esistenza miserabile mentre essi erano ben nutriti ben vestiti e curati quando erano vecchi e ammalati. Essi erano fieri del buon nome dei loro padroni e generalmente fieri di appartenere a gente che era qualcuno mentre Slattery era disprezzato da tutti. Egli avrebbe potuto vendere la sua proprietà per il triplo del suo valore a qualsiasi piantatore della contea chiunque avrebbe considerato ben speso il denaro che liberava il paese da un individuo spiacevole ma egli preferiva rimanere e vivere miseramente del ricavato di una balla di cotone all'anno e della carità dei suoi vicini. Con il rimanente degli abitanti della contea Geraldo era in rapporti di amicizia e con qualcuno di intimità. I Wilkis, i Calvert, i Tarlenton, i Fontaine sorridevano quando la piccola figura sul grande cavallo bianco galoppava lungo i loro viali e facevano cenno perché fossero portati dei grandi bicchieri in cui era versata una buona quantità di whisky su una cucchiaiata di zucchero e un pizzico di menta tritata. Geraldo era simpatico e i vicini apprendevano col tempo ciò che i bambini, i neri e i cani scoprivano a prima vista e cioè che dietro ai suoi modi truculenti e alla sua voce roboante si nascondevano un cuore ottimo, un orecchio sempre pronto ad ascoltare e un portafogli che si apriva con facilità. Il suo arrivo provocava sempre un tumulto di cani che abbaiavano e di bambini neri che urlavano correndo gli incontro, litigando fra loro per il privilegio di tenere il suo cavallo e poi si torcevano e ridevano ai suoi insulti scherzosi. I bambini bianchi volevano sedere sulle sue ginocchia per fare cavalluccio mentre gli denunciava ai loro genitori l'infamia degli uomini politici inglesi. Le figlie dei suoi amici gli confidavano i segreti amorosi ai giovinotti del vicinato che avevano paura di confessare ai loro padri i debiti d'onore trovavano in lui un amico pronto ad aiutarli. «Avevi questo debito da un mese, ragazzaccio?» gridava. «Ma in nome di Dio perché non mi hai chiesto il denaro prima?» Il suo modo ruvido di parlare era troppo noto per offendere e il giovanotto si limitava a sorridere imbarazzato rispondendo «Non volevo disturbarvi, signore, mio padre...» «Ah, tuo padre è un buon uomo, ma un po' tirato! Prendi questi e non ne parliamo più!» Le mogli dei piantatori furono le ultime a capitolare ma la signora Wilkis, una gran signora che ha il dono di saper tacere come la definiva Geraldo, disse una sera a suo marito dopo averlo visto scomparire in fondo al viale «Parla in modo volgare, ma è un signore!» E allora la posizione di Ohara fu assicurata. Egli non sapeva che gli ci erano voluti quasi dieci anni per arrivare perché non si era mai accorto che da principio i suoi vicini lo guardavano storto. Nella sua mente non vi era mai stato alcun dubbio in proposito dal momento in cui aveva messo piede a Tara. Quando ebbe compiuto 43 anni, così atticciato di corpo e florido di volto che sembrava un gentiluomo sportivo, gli venne in mente che Tara, per quanto fosse piacevole e gli abitanti della contea, per quanto avessero il cuore e la casa aperti per lui, non erano abbastanza. Gli ci voleva una moglie.